Siamo alla vigilia immediata, si gioca infatti domani Varese-Regina. Allora noi facciamo una rapida carrellata sui numeri essenziali che sono scaturiti dall'incontro col Novara e poi parleremo dei disastrosi precedenti della regina in terra Varesina. Intanto c'è stato l'autorete di Colucci, il primo segnale chiaro che la fortuna giocava totalmente per il Novara. L'autorete in casa regina mancava dal 5 maggio 2012, Angella a Genova versante Sandone. Ancora una partita, quella contro il Novara, in cui la regina non riesce a spezzare l'equilibrio iniziale ed è costretta ad inseguire. Successo l'1-0 di vantaggio per la regina, ormai è datato 11 maggio 2013, accadde contro il Grosseto. Torna a gol Fischinarler, non segnava dall'1 settembre 2012. Pagella ad Azzori, 7, Azzori più 1 sullo scorso campionato ma attenzione meno 2 sulla sua precedente esperienza in Amaranto. Ancora una volta la regina non segna nel primo tempo. I precedenti li abbiamo detti, sembra un'autentica lista di disastri. A Varesi la regina gioca infatti dal 6 novembre 1966, sempre in B, peraltro le due squadre non si sono affrontate tra il 73 e il 2010. È l'ottava volta degli Amaranto in casa Varesina. Il bottino è pessimo, 7 partite, un solo punto nel lontano 3-12-72. Un solo gol all'attivo di Rigotto, 9 quelli al passivo. L'ultima volta, 28 marzo 2013, fu un secco 3-0 per i Varesini. Oggi il Varesi in classifica è a quota 8 punti. È ancora imbattuto in questo campionato e l'ultima sconfitta risale al turno conclusivo della scorsa stagione. Peraltro non perde in casa, dal 13 aprile 2013 avversario il Livorno, Maglia Amaranto. L'ultima volta che non ha subito gol in casa, il 27 aprile 2013, contro gli Amaranto del Cittadella. Per dire, anche se il calcio non ha una logica, che gli Amaranto negli ultimi tempi sono stati, quelli di Maglia Amaranto negli ultimi tempi hanno dato fastidio al Varese, solo loro. In questo avvio di campionato è sempre andato in gol, in casa ha un bottino di 4-3. Ma attenzione, anche fuori casa ha un bottino favorevole, un bottino positivo. A Latina l'unica partita in cui non ha subito reti. Ha segnato 8 reti, Pavoletti, due di testa. Zecchin su calcio di punizione. Ha subito 6 reti, uno di testa. E poi Damonte, come il nostro Colucci, Autorete, in quel caso decisiva per la sconfitta a Cesena. Anche il Varese segna e subisce di più nel secondo tempo. L'ex E. Eli, con la regina, ha registrato 27 presenze per 2.188 minuti su 3.780, pari al 58% del minutaggio totale del campionato. Vi ricordo una pesante squalifica e anche un lungo periodo di infortunio. Mai i due tecnici contro di loro, mai sottili contro la regina. Ed invece Azzori contro il Varese due volte, un pareggio interno per 1-1 con la regina in 10 per l'espulsione al minuto 37 di adegio e una sconfitta in Lombardia.